Ciao a tutti amici di Focus Tech e benvenuti alla nostra attenzione delle Sunneiser True Wireless dopo aver provato le Momentum 3 che sono le top di gamma di casa Sunneiser ecco quindi arrivare al momento delle True Wireless ovvero delle cuffiette in ear che ci permettono di utilizzare e di godere della qualità dell'audio e del suono di casa Sunneiser anche in mobilità senza andare a dover indossare un prodotto particolarmente ingombrante come qualità devo dire ci siamo il prezzo purtroppo è molto elevato oltre 200 euro su Amazon ma vediamole da vicino vediamo se davvero vale la pena acquistarle spendendo cifre molto ma molto elevate scopriamolo assieme dopo la nostra silla le Sunneiser Momentum True Wireless sono i primi auricolari senza fili prodotti dall'azienda tedesca che nel corso dello scorso anno si è lasciata in un certo senso coinvolgere dalla moda di auricolari True Wireless questi presentano una piccola custodia in plastica rivestita in tessuto grigio chiaro molto ma molto elegante molto carina da tenere in mano e devo dire tutt'altro che pesante in quanto le dimensioni della sola custodia sono di 78,6 x 45 x 35 mm con un peso di 56,6 grammi nella parte posteriore troviamo l'ingresso USB Type-C per la ricarica con un piccolo pulsante che ci permette di accendere il led che permetterà di capire la carica della custodia in quanto se la luce sarà verde sarà superiore al 50% arancione minore del 50% come abbiamo detto dato il suo peso di 56,6 grammi è davvero molto elegante come custodia molto portatile e tutt'altro che ingombrante gli auricolari sono posizionati al loro interno grazie a un aggancio magnetico che impedirà la fuoriuscita anche se li dovessimo aprire sostanzialmente al contrario e sono in plastica con un design relativamente semplice e linee pulite la parte esterna è realizzata in alluminio con piccole superfici touch che permetteranno di raggiungere quelli che sono i comandi principali devo dire che come comandi avremmo sicuramente preferito un pulsante fisico questo perché comunque l'area in cui schiacciare è molto piccola e molte volte si fa fatica a capire se il dispositivo ha sentito il tocco e si rischia quindi di andare ad impostare o ad avviare comandi che effettivamente noi non avremmo voluto ad esempio infatti il funzionamento degli auricolari è standard quindi l'auricolare principale è l'auricolare destro che fa ponte per l'auricolare sinistro quindi quello che si collegherà allo smartphone a qualsiasi smartphone sia android o ios è l'auricolare destro che sostanzialmente tende a scaricarsi un po' allo stesso modo se vorrete usare solamente un auricolare sappiate che potrete usare solamente l'auricolare destro perché il sinistro infatti non si interfaccia direttamente con il dispositivo il peso degli auricolari è di soli 6,2 grammi l'uno e devo dire infatti essere tra i più leggeri e i più comodi di quelli attualmente in commercio e che noi abbiamo avuto la fortuna di provare infatti una volta posizionato all'interno grazie anche ai 4 set di gommini che si trovano direttamente nella confezione si fisserà molto bene al padiglione auricolare non vi darà fastidio neanche per un utilizzo prolungato e difficilmente lo perderete perché in un certo senso va a bloccarsi senza però andare a dare troppo fastidio in quanto il gommino non si posiziona particolarmente in profondità nell'orecchio ma resta un po' in superficie e non dà così e poi fastidio la connessione allo smartphone avviene tramite bluetooth 5.0 con supporto ai codec aptX quindi con una bassa latenza e nessun tipo di ritardo nella visione di filmati hanno certificazione ipx4 quindi non sono prettamente ideali per un utilizzo sportivo però comunque sono nella media nel settore degli auricolari true wireless è presente il chip o sensore di possibilità molto comodo che infatti permette di interrompere la riproduzione musicale proprio nel momento in cui l'auricolare viene rimosso dall'orecchio parlando di comandi come abbiamo detto sono purtroppo molto scomodi perché sono divisi da orecchio a orecchio nel senso che l'auricolare sinistro permette con il singolo tap di avviare o interrompere la riproduzione con il doppio tap il cambio del brano con il triplo tap il cambio del brano verso il brano precedente nonché con il mantenere la pressione si diminuisce il volume quindi capite che se non avete un tasto fisico pensare di toccare tre volte un comando touch è molto ma molto complicato tutti questi pulsanti tutti questi comandi da ricordare ne vanno ad inficiare sostanzialmente l'esperienza iniziale per un utente alle prime armi che si ritrova ad aver acquistato un paio di cuffie da oltre 200 euro ma di non poterlo utilizzare proprio sfruttando i comandi che sono stati pensati direttamente per questo modello però abbiamo notato due problemi prima di tutto nel momento in cui le cuffiette sono all'interno della custodia e sono completamente cariche vanno in un certo senso a consumare la carica della custodia ciò sta a significare che sostanzialmente se non l'utilizzate per un po' di tempo la custodia si scaricherà completamente in quanto le cuffiette vanno continuamente a chiamare corrente allo stesso modo nel momento in cui voi posizionate le cuffiette all'interno della custodia e questa è completamente scarica loro si, non si sa perché collegano in automatico al bluetooth del dispositivo ultimo cui sono state connesse quindi questi sono due piccoli baghettini software che sicuramente verranno risolti da Sennheiser ma al momento della recensione sono sicuramente da segnalare parlando invece di batteria noi abbiamo con una carica circa 4 ore di utilizzo quindi siamo davvero ad alti livelli chiaramente la durata della batteria dipenderà direttamente proprio anche dalla tipologia di utilizzo quindi sia volume alto, volume basso e quant'altro con la custodia si possono ricaricare quelle circa 3 volte e devo dire che come utilizzo e come carica della batteria siamo davvero ad alti livelli parliamo infine di audio la qualità è davvero eccellente naturalmente non abbiamo riscontrato alcun tipo di problema i bassi sono molto buoni e le frequenze vengono modulate perfettamente andando quindi a trasmettere un suono in linea con quanto ci saremmo aspettati da un dispositivo da oltre 200 euro gli alti sono precisi e squillanti ma non vengono troncati né distorti particolarmente nemmeno a livelli del volume particolarmente alti ultima caratteristica naturalmente è l'aspetto delle chiamate come microfono devo dire che siamo rimasti piacevolmente colpiti perché la qualità del microfono è veramente ottima abbiamo provato a chiamare più e più volte con queste cuffiette e l'interlocutore non ci ha mai fatto notare di sentirci male o di sentire troppo l'ambiente circostante in conclusione le Sennheiser True Wireless hanno e interno aspetti positivi e negativi innanzitutto possiamo elencarvi gli aspetti positivi il case è bellissimo una plastica rivestita in tessuto nonché molto elegante facilmente trasportabile leggerissimo ed in grado di caricare le cuffiette quelle 3-4 volte allo stesso tempo tra gli aspetti positivi annoveriamo una grandissima comodità nel padiglione auricolare davvero sono cuffiette molto ma molto comode che nel momento in cui andrete ad inserirle non le sentirete praticamente più e non avrete alcuna difficoltà ad utilizzarle anche per un lungo periodo in quanto la batteria di circa 4 ore di carica delle sole cuffiette è anch'essa abbastanza soddisfacente l'altro e l'ultimo aspetto positivo è sicuramente il suono la qualità audio è classica Sennheiser quindi grandissima qualità sotto ogni punto di vista con un grande plus per quanto riguarda le chiamate perché le abbiamo testate approfonditamente e ci hanno soddisfatto pienamente proprio nel riuscire a chiamare perfettamente senza alcun tipo di problema gli aspetti negativi come abbiamo detto oltre ai piccoli baguettini software abbiamo sicuramente i comandi i comandi sono touch sulla parte superiore delle cuffiette sono troppo complicati sono difficili da memorizzare perché ce ne sono tantissimi e allo stesso tempo non danno quel feed tattile che sostanzialmente noi andiamo cercando e in cuffiette true wireless già il comando soft touch è difficile di suo quindi se immaginate che ad esempio si raggiunge un comando con tre tappe soft touch è praticamente impossibile riuscire ad utilizzare senza aver fatto una grande pratica nell'utilizzo di tutti i giorni se il nostro video vi è piaciuto vi invito a mettere un like qui sotto naturalmente iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina delle notifiche